Uno, nessuno e centomila. Qui siamo nella via Pirandello. Guardate cosa vi faccio vedere, ma non è una questione di ora, ma risale negli anni, da lontano, molto lontano. Questa è una via di accesso, la principale, che ci porta a Tauronina, ed è proprio la via Luigi Piradlo. Uno legge via Luigi Piradlo. Guardate qui. Povero Pirandello. Eppure, guardate, facciamo vedere il contesto. Ma perché chi passa da qui, da qui passano tutti, autobus, macchine, turisti. Poco fa ne ho incontrato uno e mi ha detto, ma la via Piradlo, che cos'è? Il sindaco bolognano, visto che dove va a Cateno De Luca, finalmente fioriscono i provvedimenti amministrativi per fare tutto ciò che non avete fatto in cinque anni, per favore, la sistemate, questa? Ci vuole poco, anzi ne approfitto per lanciare un appello. Chi è che si offre volontario per poter sistemare una barbinista? Per favore, non è un oltraggio. Qui siamo in uno degli accessi principali di Tauronina. Attenzione. Allora, confidiamo in un provvedimento urgente, come tanti altri che stanno facendo in queste ore, per tentare di carpire il voto. Qui, giustamente, Pirandello non vota. Però è una questione così di estetica? Lasciamo stare di rispetto. E quindi appello al sindaco Mario Bolognani. Mario, facci sognare. Grazie. 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 Grazie.